In seguito alla riforma dell'articolo 29, testo unico immigrazione, ad opera della legge 94 del 2009, in tema di ricongiungimento familiare, il certificato di idoneità abitativa va rilasciato facendo riferimento alla normativa contenuta nel decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti. Grazie a tutti.